Ciao a tutti, io sono Sascha Rizzo e oggi vi parlerò delle azioni e delle obbligazioni. Partiamo con il dare una definizione delle azioni. Che cosa sono le azioni? Le azioni sono semplicemente la suddivisione in parti uguali del capitale di una società di capitali, ovviamente del capitale sociale. Questo cosa significa? Significa che se io sono proprietario di un'azione, sarò anche proprietario di una piccola frazione della società emittente quell'azione. Quindi per capire meglio possiamo fare un esempio. Un esempio può essere se compro delle azioni di Facebook, sarò proprietario di una piccola frazione di Facebook. Invece cosa sono le obbligazioni? Le obbligazioni non c'entrano niente con la proprietà di una società, ma c'entrano col debito di una società. Infatti un'obbligazione è proprio un qualcosa che una società emette quando vuole farsi prestare dei soldi. Infatti gli obbligazionisti comprano le obbligazioni per prestare dei soldi alle società che emettono queste obbligazioni, in cambio ovviamente di un tasso di interesse. Quindi ricapitolando, con le azioni io sono proprietario, con le obbligazioni io sono creditore. Ora, tornando alle azioni, va specificato che non esiste solo una tipologia di azione, ma ne esistono più tipologie. Infatti c'è l'azione ordinaria, c'è l'azione di godimento, c'è l'azione di risparmio e le azioni privilegiate. Però qual è la differenza tra tutte queste tipologie di azioni? Allora, le azioni ordinarie garantiscono sia diritti amministrativi, quindi il diritto di voto nelle assemblee delle società, sia diritti patrimoniali, quindi il diritto a riscuotere i dividendi, qualora vengano ridistribuiti dalla società, e il diritto alla restituzione del capitale nel caso la società si dovesse sciogliere. Ci sono poi le azioni privilegiate che garantiscono il diritto di remunerazione tramite dividendi e garantiscono il diritto di restituzione del capitale, qualora la società si dovesse sciogliere, prima degli altri azionisti. Ci sono poi le azioni di risparmio che garantiscono solo diritti patrimoniali, e infine vi sono le azioni di godimento, le quali non garantiscono il diritto di voto e oltretutto garantiscono la restituzione del capitale in caso di scioglimento solo successivamente agli azionisti proprietari di azioni ordinarie. Ora che abbiamo capito come funzionano le azioni, quali sono le diverse tipologie, eccetera, eccetera, torniamo a parlare di obbligazioni. Le obbligazioni infatti possono essere emesse da società, possono essere emesse da enti pubblici, dagli stati, possono essere emesse da più soggetti. È importante osservare che essendo comunque un debito per chi le emette e un credito per chi compra le obbligazioni, è ovvio che di mezzo ci sarà un tasso di interesse. Questo tasso di interesse nell'obbligazione è rappresentato da una cedola o coupon che rappresenta un interesse che verrà ripagato al creditore, quindi all'obbligazionista, a periodi. Quindi, periodo per periodo, l'obbligazionista riceverà una parte di remunerazione derivante dall'obbligazione grazie appunto al tasso di interesse che sarà applicato. Tuttavia è importante osservare che non tutte le obbligazioni prevedono delle cedole. Infatti ci sono anche altri metodi per ripagare l'interesse di un'obbligazione. Un esempio è quello di emettere un'obbligazione a un valore sotto alla pari e restituirla poi al valore nominale. Cosa significa però valore alla pari, nominale, eccetera, eccetera? Allora, quando un'obbligazione viene emessa viene fissato un valore nominale. Poi, quando questa obbligazione viene venduta, può essere venduta sotto alla pari, quindi a un valore inferiore e quindi è qui che nasce sostanzialmente la differenza che costituisce l'interesse quando viene restituito poi il valore, perché viene restituito il valore nominale e quindi c'è una differenza che rappresenta lo scarto di emissione, quindi l'interesse e la remunerazione degli obbligazionisti. Oppure si può emettere sopra alla pari, quindi con un valore di emissione superiore al valore nominale e infine alla pari con due valori uguali. Ora, credo sia importantissimo anche osservare un ultimo particolare, che è quello delle agenzie di rating. Le agenzie di rating sostanzialmente sono agenzie appunto che fissano un valore di affidabilità alle obbligazioni, un giudizio che può variare da AAA a D che sta per default, un esempio di obbligazioni o meglio titoli di Stato, AAA sono i titoli tedeschi, invece un esempio di default può essere per esempio l'Argentina recentemente. Ora la domanda che può sorgerci è quella circa il quale strumento possa più fare per noi. Allora, se siamo soggetti più propensi al rischio e anche più esperti, conoscendo magari meglio i mercati finanziari e tutto, allora faranno più per noi probabilmente le azioni. Se invece saremo soggetti con un capitale da parte che non vuole sostanzialmente grossi rischi, però non vuole neanche lasciare lì i soldi sostanzialmente a inflazionarsi, allora in quel caso faranno più per noi le obbligazioni. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che lo possiate trovare interessante. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e ovviamente nel caso avete domande potete farle nei commenti. In ogni caso vi auguro un buon proseguimento, ciao a tutti!